La sala operativa della protezione civile regionale in via le Brigate Partigiane a Genova è stata posta in assetto di allerta per la gestione dell'emergenza coronavirus. Lo ha deciso il presidente della regione Giovanni Totti insieme all'assessore regionale della protezione civile Giacomo Giampedrone per rispondere al meglio alle necessità del territorio. La sala operativa, che è sempre aperta H24, si attrezzerà ulteriormente con personale di sala qualificato che supporterà i comuni che ne avranno bisogno e tutte le strutture che ospiteranno le persone che sono o saranno poste in quarantena obbligatoria. Ammontano a 146 le persone già prese in carico dalla protezione civile all'interno dei due hotel di Alassio, dove resteranno nei prossimi giorni, a cui si stanno fornendo pasti. Anche i medici che sono entrati in contatto con la paziente ricoverata al San Martino sono stati rintracciati e ora sono sotto sorveglianza. L'infettivologo Matteo Bassetti ha confermato le buone condizioni della paziente del San Martino e ha ribadito che si tratta di un'infezione che decorre in maniera lieve e solo in piccola percentuale in modo grave. Bassetti ha anche spiegato che nel 90% dei casi è una patologia che si autoelimina e che può essere più impegnativa nel 10-15% dei casi. Solo nel 5% può avere un andamento critico. Sempre al San Martino la scorsa notte si è presentato in pronto soccorso un uomo proveniente dallo spezzino denunciando un forte dolore toracico. Durante il controllo medico ha dichiarato di essere venuto in contatto a sua volta col paziente 1 della Spezia. A questo punto il paziente è stato trasportato nel reparto malattie infettive e contestualmente 19 operatori del pronto soccorso sono stati accompagnati in isolamento fiduciario precauzionale e sono in attesa dei risultati del tampone a cui è stato sottoposto il paziente sospetto. Intanto altre tre persone ospitate negli hotel di Alassio sono state portate al San Martino per accertamenti medici.